Io comprendo che Gullardia, però ci sono anche rimasto male, ovviamente non c'è problema che lo ammetta, ci sono rimasto male. Non c'è il mio podcast! Eh, mia nonna. Non c'è il mio podcast! No, 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 non molla, non molla! Non molla, non molla! Non molla, non molla, non molla, non molla! Stavamo un gruppo, le macchie. No, no, anzi, non c'è il mio.